eccoci qua siamo live allora aspettiamo che vi connettiate così mi date qualche feedback giornatina simpatica oggi simpatica come sempre aspettiamo aspettiamo perché non vedo nulla non vedo commenti non vedo quanti siete non vedo nada quindi se mi date un bel feedback se mi sentite mi vedete come mi sentite soprattutto partiamo così evitiamo di parlare senza che nessuno stia guardando in sostanza ciao angelo ciao ciao grande ora organizziamo organizziamo quella lezione di cui abbiamo parlato ci divertiamo mi spieghi tutto nel dettaglio ciao francesco ecco che vi collegate questi giorni mi è toccato senti tante di quelle idiozie che mamma mia c'ho mi viene quasi mal di testa meno male che sono totalmente tanto impegnato con la trading room col trading con chi è entrato in vostro sito e cecchini tutto il resto che non riesco neanche a dargli a dargli importanza però mamma mia ragazzi male 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 ciao giuseppe ciao 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 beviamo un sorsino ciao daniele in gamba in gamba daniele prossimo top layer in arrivo allora allora aspettiamo a che minuto che si colleghino tutti tanto da quanto mi sembra mi sentite mi sentite e mi vedete tutti perché vedo che mi rispondete mi mi parlate quindi dovreste esserci bene così ciao pietro ciao 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 allora ragazzi allora perché questa sessione di q a perché questa questa chiacchierata perché c'è un sacco di gente che cerca risposte in cose che non conosce che non sa che non ne ha idea quindi questo è un po il retaggio da gruppo facebook quelli del trading no che ci sono quei gruppi enormi che ho dentro tutta gente che non ha più parità di quello di cui parla però si auto consigliano tra di loro essenzialmente come uno che ho visto oggi do a prendere la mia auto in in garage ovviamente una lamborghini huracan ovvio questo è poco ma sicuro che per le strade qui insomma è comodissima e stava praticamente all'uscita era all'uscita del box e suonava il clacson si stava incazzando quando in realtà era lui che era un pirla che stava fuori dall'uscita invece di andare all'ingresso dove si entrano è più o meno sostanzialmente quello che succede in questi gruppi facebook dove sta sta gente che parlano tra di loro si hanno consigli dall'altro del loro non capire una mazza e tra l'altro se ciao andrea benvenuto tra l'altro un nuovo cecchino e tra l'altro è ancora di più nelle small cap perché in italia nessuno ne sa niente ok e quindi voglio un attimino aiutarvi a rispondere a qualche domanda anche perché andrea mi ha fatto un po mi ha ha tradito i voti e mi ha raccontato un po delle vostre confessioni e sono alcune raccapriccianti in tal senso ok e per esempio partiamo da parte a parte un piccolo un piccolo appunto su come sta procedendo wall sit per cecchini dopo qualche giorno dall'apertura una cosa pazzesca una roba pazzesca veramente da star serissimi cioè c'è gente in room che già opera ma non che opera che opera come se lo facesse da anni ok tant'è oggi ho scritto io non so se sono i miei contenuti che sono così buoni lo sono ma sono veramente clamorosi che già sembra che siete in quel mercato da anni oppure voi che siete veramente top oppure entrambi secondo me è entrambi la cosa la risposta perché veramente c'è gente che già pubblica operazioni che mi segue con una nonchalance pazzesca che ha capito esattamente cioè ci sono persone che hanno chiesto a Andrea eh ma voi non siete chiari sullo short selling a parte che l'ho raccontato in mille salse come funziona a parte che durante l'evento c'è stata proprio una parte in cui ho spiegato con esempio delle scarpe come funziona se il problema è non siete cari con lo short selling probabilmente si ascolta poco quello che dico ok e infatti in trading room è una cosa pazzesca c'è già gente che chiude sessioni positive che fa operazioni le prime operazioni in assoluto della sua vita e in assoluto nelle small cap che riesce a seguirmi con una facilità estrema anche perché quello che faccio è assolutamente facile da seguire perché ve lo spiego tutto il giorno ma giorno tanno risultati trading ci sono tante 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 persone che tutti i giorni tutti i giorni ok mi seguono da mezzogiorno luna fino a sera fare trading dal vivo sessione di trading dal vivo ok più tutte le operazioni in chat che io ovviamente vado a rifinire gli appostati e quant'altro quindi non è che io non lo faccio sei tu che sei dal lato sbagliato la barricata ok e quindi una roba pazzesca io avevo detto voglio top player mi hanno proprio ascoltato perché la cosa fondamentale che dovete capire è che sostanzialmente da cui da questo bacino nascerà tutto quello che verrà dopo e le idee da creare in questo mondo dei small cap come trading pro academy e quant'altro sono tantissime tantissime e fighissime ok chiamate Andrea provate a istorcergli qualche informazione sono pazzesche ma ma in assoluto anche semplicemente l'idea dei tutor è ovvio che chi entra ora è assolutamente ha un vantaggio rispetto agli altri pazzesco cioè proprio sarà anni in luce avanti top modulo 3 lo sto guardando 10 volte guardate tutti 10 volte perché in modo che diventa un riflesso e mi segui in modo veloce e fai quello che faccio io oggi alta sessione profittevole ieri sessione profittevole tra l'altro ieri per andare sul discorso tempo ok ieri ho mollato alle 18 una sessione buona e alle 19 20 21 ci sono state le occasioni per fare una sessione da 10 15 20 che purtroppo non sono riuscito a fare perché non ero più sono andato in giro con mia figlia va benissimo lo stesso però per tutti quelli eh non ho tempo non posso fare l'apertura io lo spiego lo dite perché è sempre quello il discorso non sapete le cose ma neanche ascoltate perché io l'ho detto mille volte e chi è nel percorso lo sa benissimo ci sono tre macro time frame sul quale operare quindi uno in preapertura dalle 11 12 fino alle 3 e mezza uno dalle 3 e mezza anzi sono 4 uno dalle 3 e mezza alle 4 e mezza alla prima ora uno dalle 4 e mezza alle 19 20 e uno dalle 20 alle 22 e ognuno di questi e tutti quelli che sono in trading room sono testimoni se ci sono possono confermare scriverli e quant'altro ognuno di questi macro time frame che non solo il time frame un minuto del grafico parlo proprio di periodi della giornata rappresenta un'opportunità specifica con un vantaggio specifico quindi la roba del non ho il tempo è la classica cosa dei vincenti trovano una strada per vincere i perdenti per perdere è una scusa ok perché i modi che trovano i perdenti per perdere sono le scuse tipo eh ma il giorno eh ma i risultati eh ma il training live eh ma il tempo eh ma qua ma che cosa è tutto è tutto straspiegato no quindi fantastico super contento di quello che vedo in trading room è una roba pazzesca pazzesca ehm ci sono persone con più prevenzione a rischio meno prevenzione a rischio di chi fa già operazioni difficili che io scrivo magari questa non la seguite guardatela ma non fatela e la fanno e molto spesso è meno male che non mi sono che non ti ho ascoltato e l'ho fatta anch'io con te perché va a target ma può andare anche in stop e quindi io dico è un'operazione più rischiosa ci vuole più esperienza ma quindi c'è di tutto dentro sono già operativi questa è una cosa pazzesca cioè è una cosa pazzesca ok quindi detto questo sono già autonomi ed è la cosa più importante perché il percorso è strutturato cioè è molto semplice come strutturare il percorso ci sono delle video lezioni registrate che ti guardi quante volte vuoi più le guardi e più diventerai autonomo velocemente e questo mi sembra abbastanza semplice da capire no? dopodiché c'è la trading room dove fai trading con me fare trading con me può significare copiare le mie operazioni cosa che non mi fa neanche impazzire però le faccio poi copiarle o può significare semplicemente vedere praticamente quello che ti ho spiegato in modo super profondo nelle lezioni ma lo vedi praticamente fatto live ok e tutto questo è fatto per renderti autonomo tant'è che io ora me ne ero andato e un ragazzo ha fatto la sua prima operazione su un'azione che stavamo seguendo tutta la giornata da solo ok da solo quindi non deve stare a cercare domande di cui non si possono avere le risposte cioè sarà farsi domande bisogna bisogna ascoltare bisogna ascoltare bisogna investire sulla propria conoscenza punto ok solo se si ha l'indo del top player se si ha l'indo del eh ma però stai bene fuori vai da tutti gli altri formatori che ti insegneranno cose fantastiche come sempre detto questo detto questo dopo si continua perché si va a fare le lezioni private si fanno otto lezioni con me dove si studiano diverse cose domani magari vi faccio fare un giro dentro proprio dentro la piattaforma così vedete proprio visivamente quello di cui sto parlando e poi c'è ovviamente il piano di battaglia ogni giorno ok e ci sono i bonus oggi un'operazione da mago del top tick vista live non l'ho fatta perché ero concentrato su altro oggi devo fare la guerra su palte su dax su cei ok avevo deciso che devo fare la guerra là però c'era questa operazione su rcat su 380 da mago del top tick quindi presa con quel tipo di approccio e sostanzialmente ha fatto 40 centesimi istante ok un'altra su AUB idem simile che ha fatto un dollare e mezzo istantaneo però tutto discusso in live cioè dal vivo ok semplicissimo quindi là si vedono quelli sono i risultati cioè voi dovete apprendere comprendere formarvi ok formarvi sbattere che io oggi ho fatto vedere la mia sessione bella sessione ieri ho fatto una bella sessione l'altro giorno ho fatto ma voi mi dovete sbattere di quello voi dovete formarvi e comprendere perché altri c'è voi ah beh Jonathan ha fatto una bella sessione quindi quindi c'è quello che so fare l'ho fatto vedere in anni ormai ora è il momento che uno inizia a formarsi comprendere formarsi studiare diventare autonomo stare in training room dovevo stare con me tra l'altro un'altra cosa che voglio fare per premiare chi è entrato che ha deciso di investire nella propria formazione e sono tutti super soddisfatti ma non super soddisfatti dello studiare i video super soddisfatti di quello che stanno già facendo cioè ripeto ci sono persone che già stanno avendo profitti che già stanno operando ed è ovvio e questa cosa non me la aspettavo neanche io perché è una cosa nuova il mercato dove veramente non si sa neanche che ordini usare cioè ok persone che già operano con un buon grado di autonomia ok con un'ottima gestione non me la aspettavo in realtà è stato frutto anche dell'immersione in trading room perché è ovvio stare con me veramente con me accanto a me ok per tutta la giornata fa una bella differenza ok quindi una cosa che pensavo per esempio dopo il 5 ok è di andare a ovviamente non ci saranno più bonus ma di andare anche a togliere le live in trading room cioè chi entrerà dopo il 5 entrerà in trading room ma farà soltanto la chat farà soltanto la chat ma non sarà con me in live perché così premio chi non è stato lì a fare eh ma la come ho sempre fatto premio sempre chi mi ha dato fiducia e che è stata ripagata con risultati e chi non mi ha dato fiducia in qualche modo problemi suoi pagherà perché è contenuto pazzesco stai con me da vivo vedendo tutto oggi ho preso uno stop su PLT in preapertura dove sono andato a deviare dal piano semplice cioè semplice ho deviato dal piano stop dal piano al processo anzi stop appunto proprio linearissimo ok linearissimo dopodiché ho continuato a applicare il processo ho fatto gain ho recuperato tutto sono andato in gain di 1500 1300 più o meno 400 dollari a fine sessione con un'azione che invece non mi ha dato quello che volevo Daz la vedremo perché se non c'è assesso le cose da grande inganno americano ieri hanno portato in SSR così vabbè roba che ho spiegato in trading room me l'aspettavo infatti ho provato a fare una prima operazione dalla target la seconda l'ho stoppata praticamente a brecchino perché non andava perché hanno messo hanno messo in atto le condizioni per non farla venire giù e quindi non era oggi il giorno e va bene e va bene e però chi mi ha dato fiducia è stato ripagato ampiamente avrà accesso alle live trading con me e quant'altro gli altri molto probabilmente dovranno dovranno pagarle ok Fulvio vuoi partecipare al video vuoi dirmi qualcosa in particolare se vuoi ti faccio partecipare scrivi nei commenti proprio di cosa vuoi parlare cioè se hai un errore o se vuoi partecipare magari hai sbagliato da spingere e quindi ragazzi bellissimo però sono molto 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 contento di come sta andando non mi aspettavo vi giuro non mi aspettavo che chi è entrato potesse essere già veramente attivo dopo così pochi giorni cosa grazie Fulvio è un errore o vuoi partecipare interessa simpatica questa cosa la mia interazione piace sempre bellissimo aspettiamo che mi risponde Fulvio e quindi ragazzi c'è tutta autonomia possibilità di stare vicino a me è una bomba l'unica cosa è che uno deve poter voler investire nella propria conoscenza c'è poco da fare c'è poco da fare un mercato che non conosce nessuno un mercato con potenzialità enormi tra poco sentirete tutti uscire fuori esperti di small cap vari eventuali da 15 anni no così perché saranno miei studenti che invece di applicare o forse questa volta ok o forse questa volta gli passerò la voglia perché veramente riusciranno a fare game per la prima volta invita loro allora il ciao Domenico fatemi domande per favore perché non vi fate le domande da sole da soli alle quali non avete risposte ok non vi fate le domande da sole a quelle che non avete risposte fatele a me ora ok quindi vi ho detto l'orario non è un problema non è un problema è una scusa per perdere l'autonomia non è un problema assolutamente non è un problema l'essere operativi mi stanno non so se sono loro che sono veramente dei super top player ma stanno già l'ho postato anche sono già operativi sono già operativi è una cosa pazzesca è una cosa pazzesca quindi fate le domande a me ora così evitate di farvi voi le domande di cui non avete risposto magari andate a parlare con gente che ne capisce meno di voi come succede sempre domenico vuoi prendere vuoi prendere cadetto però hai paura che possa essere meno performante allora cadetto sostanzialmente hai tutto quello che ti serve in termini di didattica ok di conoscenza che è la cosa principale è quello su cui io baso il mio processo quindi hai il processo per intero però non hai la trading room ok ora secondo te questa è una cosa che chiedo a te è una cosa che chiedo anche a me quando devo fare una scelta ok secondo te secondo te è meglio non avere la trading room e magari magari piano piano fare quello che fanno i vincenti cioè lavorare per poterci accedere oppure è meglio non avere niente neanche il processo mi sembra una scelta abbastanza abbastanza ovvia è ovvio che con cadetto non hai le lezioni con me non hai la trading room e questo è palese va benissimo però il processo è assolutamente coperto nelle lezioni ok queste poi sono scelte personali sono scelte personali Pietro al mattino non si può operare nel senso che i mercati americani small cap azionari in generale vabbè small cap sono quelle che si muove che big cap non si muovono proprio a quell'ora dalle 11 più o meno iniziano a muoversi ok dalle 11 più o meno iniziano a muoversi e dalle 11 a l'una le due ci sono movimenti ma non sono granché dipende sempre dal mercato se siamo in un mercato molto caldo come spiega nel bonus momentum trading ok quei bonus sono due bombe momentum trading e top tick sono due bombe ok e se siamo in un mercato veramente caldo qualcosa trovi 11 12 13 ma non è il massimo ok la vera operatività secondo me è dall'una nel pre market dall'una alle 15 e 30 una due 15 e 30 quindi mattina mattina se intendi le nove no non si può operare perché in america è praticamente notte cioè quasi notte ok però dalle due l'una le due fino a sera praticamente fino alle 10 è un un continuo di possibilità operative ok e ragazzi qualche altra domanda perché nel frattempo io sto leggendo che arrivano post qua molto interessanti sono assolutamente contento quindi cosa succederà dal 5 ottobre dal 5 ottobre non succederà niente lato mio e lato chi è entrato in un sito per cecchini che sono tanti ok ho già ricevuto parecchi feedback parecchi feedback di persone di vario tipo persone di vario tipo ma io non avevo dubbi cioè non avevo dubbi sulla sulla bontà del percorso che mi sta facendo fare profitti veramente come ho postato veramente interessante come ho postato da anni ma con un processo pazzesco che oggi come ieri come l'altro ieri come il giorno prima hanno potuto constatare con mano chi è dentro chi è dentro ok e quindi cosa succederà dopo il 5 per noi nulla andremo spediti come un treno perché dobbiamo creare veramente un esercito di killer però per chi è fuori non avrà più non avrà più non avrà più bonus quindi mago del top pick e momentum training che sono una bomba e molto molto sicuro toglierò anche la possibilità di vedere le live streaming che partono alle 15 15 e 15 ogni giorno perché quella roba lì è una bomba e la lascio soltanto per chi mi ha dato fiducia ora ok e per chi mi sta chiedendo come avere altre informazioni Andrea fatevi una bella confessione con Andrea non lo fate arrabbiare Andrea ripeto è sostanzialmente l'unica persona in Italia che sa qualcosa di small cap perché è una persona che sta accanto a me nella creazione è stata accanto a me nella creazione di tutto questo percorso da mesi e lui stesso opera da mesi su questo mercato ma è veramente l'unico in Italia che ne sa qualcosa ok dopo di me chiaro quindi parlate con Andrea che non vi dice cose da gruppo facebook così a caso andremo su andremo giù no vi dice esattamente le cose come stanno quindi il numero verde l'ho trovato ovunque ragazzi il link per farvi l'ho trovato ovunque se Andrea ci sta ascoltando lo può postare ma sostanzialmente è ovunque ok tiziano allora altro non me lo apre penso che sia tutto ciao giornata avete iniziato il corso da tre giorni posso curiosare in training room ci sono i tempi di rispettare assolutamente devi entrare in training room se hai problemi senti l'assistenza ma la prima cosa è studiare ok ora ci sono persone che hanno fatto una full immersion super full immersion e si sono buttati conto operativo reale no demo reale conto operativo reale già stanno operando ci sono altri che invece avranno bisogno magari di due mesi di studio dopo applicare in training room ragazzi è totalmente soggettivo l'unica cosa che è oggettiva è la qualità e la possibilità di partire subito ok la qualità e la possibilità di partire subito quello che io voglio sono top player gente che vuole ambire avere veramente risultati importanti non me ne può fregar di meno di mettere dentro tutti perché pensateci pensateci avrei potuto fare come fanno i vari guru ok i vari guru e vendervi quella monnezza a che ne so 7-800-1000 euro no vuoi studiare da me paghi una parte di quello che vale una parte ma sicuramente pagherai sempre di più ok pagherai sempre di più di quanto ti fanno pagare sicuro perché quello che paghi con me è qualità pura è applicazione è la mia vicinanza ok in questo modo taglio un sacco di erbacce e entra soltanto la creme della creme top player appunto perché poi io voglio creare un team di top player perché in testa c'ho tutta una marea di idee provate a spremere Andrea vi qualcosa magari vi dice Francesco non riesco a capire altro comunque sei già un mio studente lo so benissimo e continua a studiare continua a studiare applicare quello che stai studiando e allora hai la possibilità di entrare non per perché hai studiato con me comunque c'è sempre un un occhio di riguardo quindi non ti preoccupare anche se non riesco a continuare a leggere però magari se hai una domanda specifica senti Andrea senti Andrea che ti aiuta perché io non riesco ad aprire altro non Facebook non mi apre Facebook è una roba una roba così strana e ragazzi qualche altra domanda io sono veramente ma no contento sono veramente euforico come direbbe qualcuno sono veramente 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 contento di quello che sta succedendo cioè ho gente ho ragazzi che già segnalano le operazioni c'è una roba pazzesca questo vi fa capire quanto il processo sia oggettivo quanto sia potente quanto sia replicabile io non dico mai cose per caso io non vi dico è replicabile qua e là no io vi dico è replicabile totalmente replicabile perché lo è e la controprova sono persone in trading room che conoscono questo mercato dal giorno in cui sono entrati quindi qualche giorno fa e già riescono a non solo fare operazioni in autonomia riescono anche a segnalare potenziali situazioni interessanti cioè è una roba bestiale 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 ok sono veramente 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 contento della qualità di chi è entrato uno e del e del lavoro che stanno facendo perché comunque c'è da dare Cesare i lavori si fanno due ok e tutti quelli che stanno nel mio gruppo con il mio gruppo trading online per uscire dalla massa con i sei ma tutte queste cose in testa che c'erano anche prima di vedere l'evento che l'evento è noioso è roba folle ho parlato di una cosa ho parlato di una roba che nessuno conosce facendo capire cose che sostanzialmente già sono proprio un'impalcatura di quello che significa operare in questo mercato ok la gente non ha capito una mazza c'è qualcuno non ha capito una mazza si mette a scrivere minchiata nel gruppo però sta nel gruppo perché vuole lucrare un po' di roba gratis allora via fuori 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 io farei una bella opera di banning perché a me l'ipocrisia mi fa incazzare ok se tu sei uno che ah ma Jonathan deve far questo perché altrimenti eh allora non stai nel gruppo non ti guardi l'evento non rompi i maroni e sei coerente perché io sono una persona coerente ok e sei coerente non è che cerchi informazioni gratis e poi quando è quando è oh il sapere si paga io il sapere l'ho sempre pagato l'ho pagato o con un investimento economico o l'ho pagato con i danni ho entrato in quest'ordine di idee che questo qui è l'approccio dell'imprenditore no ok io sono prima un trader e poi un imprenditore io sono un trader perché sono un maniaco e chi chi sta in trading room lo può confermare sono un maniaco del trading però sono anche un imprenditore ok perché do formazione con i miei contenuti che sono pazzeschi ok ed è un business per me ma soprattutto sono una persona che ha l'approccio imprenditoriale in qualsiasi cosa fa e l'approccio imprenditoriale è che la conoscenza le informazioni e quant'altro si pagano in due modi o con un investimento quindi mi compro tempo ed esperienza oppure con i danni facendo i danni ma non cercando di stare in un gruppo prendendo le robe le robe gratuite qua e là e poi ma se ma se ma giornata ma qua quando devi pagare no perché quello è un investimento che fai per la tua conoscenza punto punto non c'è non c'è tanto da aggiungere ok quindi ora ban a nastro perché sinceramente non me ne può fregar di meno e perché così evito anche che queste persone entrino nel gruppo perché io voglio qualità voglio qualità ok non me ne può fregar di meno voglio mettere una barriera all'ingresso è come quando fai business quando c'è una barriera all'ingresso quello che riesce a superare la barriera è qualità è roba di sostanza anche qui metto una barriera all'ingresso così sono sicuro che ha persone che si danno da fare che applicano che vogliono arrivare al risultato e non farò non farò altro che aiutarli a far questo Ernesto vedo che si è giunto Ernesto Ernesto è in trading room anche abbastanza attivo che ne pensi della trading room Ernesto dai un feedback a questi miss credenti che non si vogliono battezzare con con Andrea cosa faccio in trading room chiacchiero dico eh ma forse dovremmo andare su forse andremo giù o faccio sostanza tutti i giorni Ernesto aiutaci faccio capire dopo di che chiudiamo perché tra un po' torna la mia bimba devo sapere la macchina della pupa bellissimo se avete altre domande ragazzi sparate tranquillamente ho visto che c'è anche Andrea che ci sta guardando se magari riesce a postare quel link per la chiamata diretta così aiuti a aiuti a farti richiamare in modo semplice in modo semplice per il resto ragazzi se avete domande fatemele così vi risponde il diretto interessato senza che vi mettete a inventare da soli domani facciamo ehm con calma devo prima fare la sessione quant'altro non so neanche se riuscirò eh in un orario ragionevole vediamo ehm vi vi faccio fare magari un giro dentro whatsit per cecchini ok e e vi faccio vedere un pochino di cosa si parla cioè cosa è fatto fino a mo cioè chi non è entrato già sta veramente indietro già sta veramente indietro c'è veramente tanta tanta roba che già state perdendo perché ogni giornata ha delle situazioni ok di un certo tipo che quindi possono essere andate a studiare in approfondimento dei contenuti didattici e sostanzialmente già non aver perso non lo so sessioni da quando abbiamo aperto noi abbiamo aperto nel discorso quindi è oltre una settimana che ci sono postati piani di battaglia e trading room e video di cui ora verranno caricate anche le registrazioni quotidianamente di cui si va a fare approfondimento studio e quant'altro è una roba pazzesca ieri Marco un ragazzo in trading room mentre guardavo un'azione che volevo shortare ho detto ma io aspettare ora perché c'è una situazione che non mi convince lui ha detto eh su questi livelli quest'azione potrebbe essere una dinamica di quelle che abbiamo studiato assolutamente sì e il risultato è stato che lui dopo qualche giorno di studio già l'ha identificata subito subito e il risultato è stata un'azione che è passata ha fatto due dollari istantanei pum pum alt ed è andata parabolica lui parlava di fare un long ovviamente quindi c'è io sono veramente veramente euforico ora ci vuole cioè sono proprio contento perché è una roba pazzesca cioè persone che sono entrate ieri sono entrate ieri che già hanno questo tipo di comprensione è una roba pazzesca è una roba pazzesca ragazzi Andrea ok cioè sono chiacchiere roba teorica oppure pratica vera full immersion totale non solo mia anche vostra che contribuite fate operazioni date letture e quant'altro dacci un tuo un tuo parere Ernesto così almeno non ah l'hai già scritto eh vabbè qua saltano i commenti su facebook che è vabbè riscrivimelo perché voglio leggerlo pure io qua salta tutto non lo so dove è scritto vabbè comunque eh si facebook è un macello salta tutto non si legge niente poi lo troverete scritto e comunque chi è dentro sa quello di cui sto parlando ragazzi siamo solo inizio cioè è veramente solo di inizio ok dopo 5 ottobre chiudiamo questa prima parte iniziale alcune cose andranno via come i bonus come la possibilità di fare trading con me live cioè live in schermo screen share e io che faccio le operazioni con voi vi dico quello che faccio bla 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 quindi bonus e questa roba andrà via così premio chi è entrato chi mi ha dato fiducia e loro diventeranno top player diventeranno diventeranno i futuri tutti i futuri tutto quello che abbiamo in testa una soddisfazione vedere che la didattica si concretizza con la pratica del vivo eh certo è lì no andiamo da lì didattica teoria studio comprensione pratica ok ragazzi vi saluto e ci vediamo domani facciamo questo questo giro dentro wall street per cerchini così vi faccio vedere proprio visivamente cosa significa ok provare per credere certo eh vabbè c'è poco da credere qua sono fatti sostanzialmente fatti che pubblico da anni va bene ragazzi un saluto ciao 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 ciao